Sicuramente sì, sicuramente l'Italia è un'altra cosa importante perché a livello personale sicuramente vincere il titolo è un'altra cosa importantissima, però ovviamente per la nazionale tutti mi hanno detto qualcosa di particolare che ovviamente vorrei che si assadisse anche questo perché nelle ultime annate ovviamente le cose non sono andate nella maniera giusta perché probabilmente non eravamo così forti, nel senso che senza girarci attorno alla fine ci sono arrivati i risultati è perché evidentemente non eravamo una squadra forte a livello di altre squadre che hanno vinto, poi ovviamente sono state molto sfortune nel senso che anche l'anno scorso l'Europeo Bargnani ha avuto questa sfortuna, il Gallo non cerca era infortunato, però nonostante ciò penso che abbiamo giocato un ottimo europeo soprattutto le prime cinque partite, poi dopo a livello di stanchezza, a livello fisico è stata dura ma ogni anno io e i miei compagni di squadra proviamo veramente a fare qualcosa di grande con la nazionale per noi stessi e per noi stessi e per noi stessi e per noi stessi e per l'Italia